I numeri del lavoro è il nuovo strumento di Regione Piemonte, realizzato in collaborazione con CSI Piemonte e CRISP, centro di ricerca dell'Università di Milano Bicocca, per offrire a cittadini, imprese e istituzioni un servizio di informazione completo e sempre disponibile sul mercato del lavoro regionale. Tale strumento è interamente accessibile online tramite il portale web della Regione e raccoglie in un unico contenitore dati regionali provenienti da diverse fonti, per offrire un quadro esaustivo relativo a diversi punti di osservazione del mercato del lavoro. Tre sono i principali aspetti di novità introdotti dal servizio I numeri del lavoro. I numeri del lavoro è stato studiato appositamente affinché le informazioni diventino utili per la lettura dei fenomeni in atto a supporto dei decisori in materia di politiche attive, per permettere un'analisi approfondita da parte di studiosi e analisti, per aiutare le imprese, i lavoratori e le organizzazioni di servizi per il lavoro nelle loro scelte. Osservare il mercato del lavoro significa assumere diverse prospettive per ampliare la conoscenza attraverso la complementarietà dei punti di vista. Quattro sono i temi di analisi offerti dai numeri del lavoro. Indicatori occupazionali sono i dati di stock forniti da Istat ed Eurostat. Dinamiche lavorative sono dati di flusso estratti dalle COB, comunicazioni obbligatorie delle aziende. Crisi aziendali raccoglie i dati IMS relativi alla cassa integrazione. Dinamiche delle imprese attraverso l'osservazione di indicatori quali la nascita e mortalità delle aziende, nuove imprese e di import-export COEweb Istat. Da ultimo, la soluzione consente di seguire un vero e proprio percorso di lettura dei dati e offre la possibilità, nella linea dell'open data, di accedere al dato sorgente, eseguirne il download e compiere analisi in completa autonomia. I numeri del lavoro. Uno strumento di conoscenza a servizio di tutti. Direanza alle consejerizzerazone. Indizialità all'interno. Historia del shit produits ed教ico dicriptor. Anche a servizio di downtime viaggio rilamente. Grazie a tutti